Terra Amara Anticipazioni, ti porto una puntata davvero ricca di colpi di scena. Leila verrà rapita e tutta la famiglia Yaman cadrà nel terrore. Inoltre, Demir chiederà aiuto a Fikret, la quale insieme formeranno una nuova alleanza contro un temibile rivale. Come andrà a finire? Se lo desideri sapere, rimani fino alla fine. Iniziamo. Demir. Protagonista indiscusso di, Terra Amara, si trova improvvisamente nel mirino di una serie di attacchi che metteranno a dura prova la sua determinazione in un momento di vulnerabilità. I segreti oscuri del suo passato, intricatamente legati ad Akangu Musoglu, verranno svelati a Fikret, suo fratello, portando alla luce motivazioni che potrebbero innescare una vendetta imminente. La trama si complica ulteriormente quando Leila, la giovane principessa della famiglia, viene rapita, tessendo un nuovo strato di dramma nell'intreccio narrativo. Demir e Fikret, uniti da un legame fraterno, si trovano ora ad affrontare un nemico determinato a distruggere gli Yaman, mettendo alla prova la solidità della loro collaborazione. La suspense raggiunge l'apice quando la famiglia affronta minacce sempre più oscure e pericolose, con intrighi che si intrecciano in modo sempre più intricato, mentre colpi di scena imprevedibili tengono gli spettatori con il fiato sospeso. La situazione si complica ulteriormente per Demir quando sua moglie, Zuleyya, denuncia un attacco subito da uno dei camion della loro compagnia diretto a Mersin dopo l'incendio al mulino. Questo nuovo sviluppo solleva domande inquietanti riguardo a chi si nasconde dietro questi attentati e cosa sta accadendo nel mondo degli Yaman. Terra Amara, promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo, offrendo una vincente narrazione ricca di mistero e suspense. Dopo gli studi, Akan, non avendo abbastanza capitale, propose a Demir di unire le forze e investire insieme a Kukurova. Tuttavia, nonostante il tentativo di collaborazione, la partnership si rivelò infruttuosa. Spinto dall'ambizione, Akan decise di investire a Mersin, ma la gestione dell'azienda si rivelò disastrosa, portando il progetto al fallimento e costringendo Akan a lasciare Kukurova con una pesante eredità di debiti. Demir, deluso e insoddisfatto della collaborazione, sciolse la società, lasciando Akan a dover affrontare le conseguenze della sua cattiva gestione finanziaria. L'ipotesi che Akan sia dietro agli attacchi contro Demir prende sempre più consistenza. Soprattutto alla luce della storia tumultuosa tra i due ex soci. La possibilità che Akan abbia intenzione di vendicarsi per la sua rovina finanziaria diventa un elemento centrale nella trama. La tensione aumenta mentre gli spettatori sono trascinati sempre più nell'oscura rete di vendette e intrighi che caratterizza il mondo degli Yaman. La serie promette ulteriori colpi di scena e svolte drammatiche, lasciando il pubblico in attesa di scoprire come si evolveranno gli eventi nel cuore della villa. Un allarme straziante si diffonde quando Gulten annuncia che Leila è stata rapita. Zuleya, travolta dalla disperazione, è certa che Umit sia coinvolta in qualche modo e, in preda alla paura, punta una pistola contro di lei. In quel preciso istante, Demir e Fikret rientrano dalla loro visita al camionista ferito. Durante la rapina, entrambi condividono la convinzione che dietro a tutto ciò ci sia Akan, e la situazione si fa sempre più tesa. Fikret, con il suo pragmatismo incisivo, riesce a persuadere Demir a presentare denuncia alla polizia per il rapimento di Leila, spingendolo a garantire che chiunque sia responsabile paghi per la sua scomparsa. Nel frattempo, le indagini della polizia portano alla scoperta di un corpo identificato come Sevda, e la tragica verità emerge. La donna ha perso la vita per mano di un colpo di pistola. Questo evento scioccante getta un'oscura ombra su Demir, che diventa il principale sospettato dell'omicidio di Sevda. Quando Demir e Fikret si presentano di fronte al pubblico ministero per denunciare il rapimento di Leila, la tensione è palpabile. Demir, con fermezza, sostiene che i suoi sospetti ricadono su Akan, ma l'accusa di omicidio incombe su di lui. La trama si complica sempre di più di intrighi, trascinando gli spettatori sempre più in profondità nel mistero che avvolge la vita degli Yaman. Cosa riserverà il destino a Demir e alla sua famiglia in questa intricata storia di vendette e segreti? Solo il tempo lo dirà di fronte alla complessità della situazione. Il pubblico ministero decide di concentrarsi prima sul ritrovamento della piccola Leila e successivamente sull'arresto di Demir. Nel frattempo, Fikret rivela a suo fratello un dettaglio rilevante. Un ritaglio di giornale presente nell'ufficio del pubblico ministero che raffigura Durmus, l'uomo ucciso da Zuleya e Sevda. La scoperta indica che l'indagine sulla morte di Durmus non è stata chiusa e potrebbe avere collegamenti cruciali con la scomparsa di Leila. Convinti che indagare su Durmus possa condurli alla piccola Leila, Fikret e Demir si dirigono al caffè frequentato da quest'uomo. Scoprono che Durmus lavorava per Erkan. La trama si arricchisce di nuovi dettagli e colpi di scena mentre i fratelli Yaman si immergono sempre più nella complessità di una rete intricata di eventi. L'indagine su Durmus diventa una chiave fondamentale per risolvere il mistero dietro la scomparsa di Leila e per comprendere il coinvolgimento di Erkan. In tutto questo, gli spettatori sono trascinati nell'incertezza e nell'emozione, chiedendosi quale sviluppo sorprendente la storia riserverà loro. Tutti gli indizi convergono, e sembra che dietro all'assalto alla villa ci siano i Gumusoglu, con la loro ombra oscura che si allunga su ogni aspetto della vita di Demir e della sua famiglia. La loro responsabilità appare chiara, non solo per l'attacco precedente ma anche per gli ultimi attacchi e il rapimento di Leila. Demir e Fikret, dopo aver affrontato la delusione di tornare alla villa a mani vuote, cercano risposte per svelare il mistero che avvolge la loro famiglia. Il telefono squilla, interrompendo il silenzio che aleggia nella villa, e Zuleya, con il cuore in gola, risponde dall'altro capo della linea a una voce misteriosa. Quest'ultima fornisce istruzioni precise su dove trovare la piccola Leila, abbandonata vicino alla porta d'ingresso. Con un misto di ansia e sollievo, Demir e Zuleya verificano che la loro bambina non ha subito danni fisici. Tuttavia, la scoperta successiva getta nuovamente la famiglia Yaman nell'incertezza e nella paura. Nella culla di Leila, Fikret trova una lettera contenente una minaccia diretta. Ti tengo d'occhio, Demir Yaman. La sinistra promessa suggerisce che il nemico è sempre più vicino e che la famiglia Yaman è nel mirino di qualcuno determinato a infliggere dolore e paura. Il video termina qua. Se vorresti sapere il continuo della storia, scrivi, sì, nei commenti. A presto, ciao. Grazie.